Arrestati tre giovani perissa aggravate. Il fatto è avvenuto a Palermo alle prime ore del mattino del 10 dicembre in via Isidoro alla Lumia. Allora alcune immagini ripresero un tizio che sparava in aria tra la folla. Oggi provvedimenti restrittivi, custodia cautelare in carcere per il primo ed arresti domiciliari per gli altri, scaturiti dalle indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Palermo Piazza Verdi, a seguito di una vicenda che ha avuto un'amplissima eco-mediatica sui social media in considerazione del fatto che la rissa e il pericoloso uso illegale di armi da sparo sono avvenuti in pieno centro cittadino, in particolare in un'area in cui si concentrano moltissimi locali che animano la movida serale e notturna cittadina, tra via Isidoro alla Lumia e le strade limitrofe. Il fatto, pericolosamente commesso nelle prime ore del mattino e il 10 dicembre 2023, dinanzi a centinaia di avventori e di pubblici locali, si inserisce purtroppo in un momento storico in cui diversi sono stati gli episodi che hanno rischiato di mettere in crisi la sicurezza pubblica nelle strade cittadine, ma in relazioni ai quali, come questa volta, forte e immediata è stata la reazione repressiva dello Stato e il dinamismo della Procura della Repubblica e delle Forze dell'Ordine, Polizia di Stato e Carabinieri, che hanno assicurato alle carceri statali i soggetti prontamente individuati, quali indiziati per la commissione dei diversi misfatti. È stato infatti contestato il neo articolo 421 bis del Codice Penale, che punisce chiunque al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine, o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materiali esplodenti.